Il Comune di Vallo della Lucania, dopo il successo dell'anteprima tenutasi lo scorso mese di ottobre, ha organizzato per i giorni 23, 24 e 25 aprile, con la collaborazione del Comune di Genzano di Roma, la prima edizione dell'infiorata di Vallo della Lucania, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Una manifestazione a cui hanno partecipato i maestri infioratori di Genzano di Roma e di Gerano, un evento che ha dato vita alla spettacolare realizzazione dei famosi tappeti floreali, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, tappeti ispirati ai temi della misericordia, fratellanza e solidarietà. I maestri infioratori hanno messo le loro competenze a disposizione di tutti coloro che hanno voluto avviarsi all'arte dell'infiorata, a far sì che anche nella nostra città venga istituita la bottega dell'infiorata, per apprendere tale antica arte. Nonostante la pioggia alternata ad arcobaleni e raggi di sole, piazza Vittorio Emanuele di Vallo della Lucania si è vestita a festa, un tripudio di colori fatto di migliaia di petali di fiori, alternati a semi. Petali che utilizzati come i colori di una tavolozza dei pittori, hanno addobbato con suggestive decorazioni il centro cittadino. L'appuntamento promosso dall'assessore Mauro D'Amato e dal presidente dell'associazione infiorata di Vallo, Vito Pesce, si è articolata in varie fasi. Ideazione e progettazione del bozzetto, lo spelluccamento, cioè la separazione dei petali dalla corolla e la loro conservazione, a cui hanno preso parte numerosi cittadini tra adulti e bambini. Terza fase, i disegni a terra, con la posa in opera dei petali e il completamento del tappeto. Infine, lo spallamento, quando oggi i bambini hanno disfatto i quadri. L'infiorata è un immenso tappeto floreale che si è steso, articolandosi in vari quadri per circa 200 metri quadrati, sulla strada centrale tra la piazza principale e il monumento ai caduti. Per la realizzazione dei quadri disegnati sul secciato, sono occorsi, oltre alle varie essenze vegetali, 40.000 fiori. I singoli petali sono stati utilizzati dagli infioratori, così come i colori di una tavolozza dei pittori, il giallo della ginestra, l'azzurro della torrena, il rosso dei garofani, il verde del bosso e del finocchio selvatico. I petali dei fiori, dunque, hanno delineato una vera e propria opera d'arte, in cui ogni petalo racconta una storia. Per l'infiorata di Vallo della Lucania, Palazzo di Città ha messo a disposizione 2.000 euro.